Il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditar ha firmato un decreto per finanziare 64 nuovi asili nido con 40,8 milioni di euro destinando il 55% ai comuni del mezzogiorno. L'obiettivo è potenziare l'offerta educativa per la fascia 0-2 anni e garantire pari opportunità a tutti i bambini, sostenendo anche le famiglie e le madri lavoratrici. Il ministero fornirà supporto ai comuni per l'attuazione delle misure, proseguendo l'approccio semplificato già applicato nei precedenti banti del PNRR dedicato all'edilizia scolastica.